Carpe Rattu! Carpe Rattu! Carpe Rattu! Carpe Rattu! Carpe Rattu montes per oi! Carpe Rattu! Carpe Rattu! Carpe Rattu! Buongiorno! Allo morisci! Quattro per il sasto! Carta è stato! Allora! Allora! De pulso! De pulso! Allora! Ricco sempre! Ricco sempre! Ricco sempre! Ricco sempre! Allora! De pulso! Allora! Allora! De pulso! 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 Ben fatto, Rob. Purtroppo non hai trovato tutti gli scudi della sfida. Ricorda che ti servono tutti e dieci per accedere alla sala bonus delle gelatine. Torna pure quando vuoi per affrontare nuovamente la sfida. È stato fantastico! Dove siamo? Quelle porte ci riporteranno in qualsiasi sfida dell'incantesimo completata. Puoi tentare di nuovo la sfida a Carpe Retractum, se vuoi, Ron. O possiamo continuare a esplorare. Fai strada tu, Ron. Guarda, credo che siamo nella sala laterale. Ho sentito parlare di questa stanza. Questi ritratti sono dei passaggi per i vari piani del castello. Mi chiedo come possiamo scoprire le parole d'ordine. Harry Potter, la persona che stavo cercando. Ciao, Fred. Dov'è Già? Ah, Fred. Dov'è Già? Più sopra, il negozio. Regalo di Natale in anticipo per te, Harry. È la mappa del malandrino. Ti aiuterà nei tuoi spostamenti Hogwarts. Wow, grazie, Fred. Puoi consultare questa mappa quando vuoi premendo il tasto Tab. Forza, seguimi di sopra. Ti condurrò al negozio. Sto andando al negozio di Fred e George al settimo piano. Ho risparmiato per comprare un paio di figurine da collezione. Sono di fretta. Non vedo l'ora di affrontare di nuovo la sfida a Carpere Tractum. Puoi venire con me se vuoi. Professoressa McGranith. Professor Silente. Sono felice di vedere che ti senti meglio, Harry. Grazie, professore. Abbaio, professore. Probabilmente sapete che i dissenatori di Azkaban sono qui a Hogwarts per ordini del ministero della magia. Scommetto che Sirius Black se ne starà alla larga da Hogwarts con quei dissenatori in giro. Coraggio, amici. George sta aspettando al negozio. Seguitemi. Ehi, Harry. Qua. Fortuna, maio. Ci vediamo più tardi. Mi sono ricordata di dover parlare di una cosa alla professoressa McGranith. Chissà di cosa si tratta. Ciao, Harry. Benvenuti. Wow, guarda tutta questa roba. Avvicinati a ogni oggetto, stuzziti la tua fantasia. Noi ti diremo di cosa si tratta e quanto costa. Ciao. Ciao.